Cantami, o diva, del peridachille l'ira funesta che infiniti addusse i lutti agli achei. L'Iliade fa schifo, è improponibile, è irricevibile, guerra, schiavismo, mascolinità tossica. Entro il 2023 una nuova edizione dell'Iliade verrà proposta a tutti gli studenti di medie e superiori. Partirei dal proemio, il proemio perché racchiude tutte le problematiche che si porta dietro l'opera, omerica, chiamiamola omerica. Cantami, questo mi, cantami, non ci piace il mi. Il mi non ci piace perché è così egoico, così autoriferito, esclude gli altri. Cantami come se la musa potesse intercedere solo attraverso me. Ma chi sei? Un ripetitore, ma chi sei? Cantaci, c'è pluralismo, c'è il racconto orale che viene tramandato. E poi calmati, cantami, imperativo, o diva. No, quasi sembra che sia una divinità che si atteggia. Cantami o diva, fosse stato Zeus, volevo vedere se lo chiamavi divo. Ti faceva, eh? Non si dice, ma ti faceva, eh? Cantaci, per favore, o divinità, che hai controllato le fonti, che me lo stai passando in esametri, che è anche un bello sbatti. Cantaci, per favore, o divinità, del pedi d'Achille. Qui è imbarazzante, è quasi, è quasi imbarazzante farvelo notare. Stiamo usando nel 2021 ancora un traduzione con un patronimico. Un patronimico, chi le prende il nome dal padre? Peleo. Ma chi era la madre, ignota? Non si sapeva nulla della madre? No, era Teti la mamma. Una divinità. Una divinità. Gli ha passato l'invulnerabilità, Teti. Peleo, che cosa gli ha passato? Qualche malattia genetica, sicuramente, ma non l'invulnerabilità. Quindi, cantaci, per favore, o divinità, del Teti di Achille, o Teti di De, se vogliamo unire, poi vedremo, no? Con i miei colleghi stiamo, stiamo discutendo di questa cosa, anche perché, poi alla fine, se voi ci pensate, a Teti la prendiamo anche in giro, eh? Ha immerso nell'ostigi Achille, ha dimenticato di bagnare anche la caviglia. Ma cos'è? God-splaining? Ma stiamo scherzando? Tettilide. Tettilide va bene. Tettilide. Crasi tra Teti e Peleo. Dunque, cantaci, per favore, divina del Tettilide Achille, l'ira funesta. Stop. Ira funesta. Ira. Ira. Chi ha un problema di aggressività? È un mostro? È un mostro chi ha un problema di aggressività? Non lo dico per me, perché sono aggressivo ultimamente. Allora, è un pazzo Achille? Fa la figura del pazzo? No. Quindi, capiamo le problematiche di Achille, prima di dire l'ira funesta, così, spararla a zero. Meglio lo scarso controllo della rabbia. Quindi, cantaci, per favore, o divinità del Tettilide Achille, lo scarso controllo della rabbia che, quando non gestita, perché poi non è che era pazzo 24 ore su 24, che quando non gestita, addusse infiniti lutti agli Achei. Anche qui siamo nel paradossale Achei. Usare l'epiteto Acheo, quindi Achei, non solo il sessista, ma anche il razzista. Achei, perché dici, allora, soffrono soltanto i compagni che muoiono nel campo di battaglia? Ma, e le vedove? Che non vedono tornare a casa i loro mariti, i loro compagni, i loro figli, le madri? Ma no, solo Achei, Achei. E poi cosa vuol dire infiniti lussi, infiniti lutti, scusate, infiniti lutti agli Achei? Allora, se erano nel campo di battaglia, però, i troiani li massacrava, ma noi ci preoccupiamo soltanto degli Achei, perché siamo una razza superiore greca. Oh! Allora, almeno, iniziamo a dire che infiniti lutti inflisse un po' a tutti, no? Anzi, a tutti. A tutti, ok? Vabbè, non andrei avanti col testo, perché qui ce ne sono divaccate, veramente, ce ne sono tante divaccate. Per modificare, però, l'Iliad, nella sua interezza, verranno anche messe alcune piccole modifiche al tema del mito. Sappiamo tutti come si svolge il mito. Arriva la dea della discordia, che lancia la mela, la più bella, al banchetto di nozze tra Peleo e Teti, e le dee dicono chi è la più bella, chiedono a Zeus, e Zeus chiede a Paride. Beh, innanzitutto, piccole modifiche. Piccole modifiche alle dee. Allora, Afrodite sarà non più della dea della bellezza, ma dea della body positive. Questo è un appunto importante. Atena, dea della parità di genere, cerchiamo di cambiare un po' i valori, e era la dea dell'identità. Quindi arriva Eris, la dea del non si può più dire nulla, non viene invitata da Peleo e Teti, perché quella lì sparava veramente baccate, tremende, alle feste, dico, quella non invitiamola. Allora lei che fa? Prende il pomo, il famoso pomo della discordia, e sopra ci va a scrivere alla più emancipata. E la getta sul tavolo. Le tre dee dicono, oddio, alla più emancipata. Chi è la più emancipata? Chiediamo a Zeus, dimostrando già di non essere proprio il massimo dell'emancipazione. Zeus, sapendo che però era una trappola, un trabocchetto, chiede a Paride di decidere per loro. E allora, Afrodite diciamo che gli promette l'amore della donna che si sente meglio con se stessa. Atena, di governare il mondo con una regina, ma i capitelli li sceglie lei, e Hera gli avrebbe dato il potere di scegliere di essere qualsiasi cosa volesse, in quanto lei era la dea dell'identità di genere. Direi che c'è tutto. Un'altra modifica che noterete, ed è anche fantastica secondo me, a mio avviso, è la figura di Achille, perché come sapete la guerra, non di Troia, perché nella nostra versione è Atena, che dice non possiamo più chiamarla così, chiamiamola Ilio. Anzi, questo Ilio non a tutti piace, perché inizia proprio con l'articolo Il. Pensavamo Laliade o Lalaliade, per essere ancora un po' più musicali, però diciamo Lalaliade, vabbè. Lalaliade parla, scusate la risatina perché Lalaliade mi fa un po' ridere, Lalaliade parla soltanto di 51 giorni della guerra di Troia, non c'è l'inizio, non c'è la fine, parla un episodio dello scarso controllo, abbiamo detto della rabbia, di Achille. Achille è invulnerabile e l'ho trovata geniale, non perché è stato immerso da Teti nell'ostige, ma perché lui è un, si è definito prima della guerra non binary. E nessun troiano vuole colpirlo per paura di passare per omofobo. Quindi a quel punto, quando è in campo, Achille è legna e nessuno non si osa toccarlo, proprio per paura di non incorrere in questo non binary. Ovviamente dobbiamo togliere tutta la parte di Criseide. Il grande tema della Lalaliade sarà lo scontro di civiltà, uno scontro tra il mondo greco, molto reazionario, chiuso in se stesso, combattono soltanto i greci perché se ne sentono così la razza superiore, e il mondo troiano, dove invece è molto più aperto, c'è parità di genere, dove combattono non solo le amazzoni, quindi vanno una quota rosa straordinaria nel loro esercito, ma anche gli etiopi, non hanno barriere etniche. E chi vincerà? Beh, come tutte le cose, chi si stanca per ultimo. Se avessi il drappo ricamato delle budella dei barbari, in tessuto di sterco e melma, i drappi dai colori chiari e scuri del sangue, dai mezzi colori dell'arterioso al coagulato, senderei quei drappi sotto i tuoi piedi. Invece, essendo uno storico, ho soltanto massacri, e i miei massacri ho steso sotto i tuoi piedi. Cammina leggera, perché si scivola.